Ciao ragazzi, sono tornati qui con un nuovissimo video Oggi ci shoppiamo farlino No, 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 no Tanto faccio, Gioele Gioele Sei vivo? Sto registrando Ehi, lo metti pronto? Mamma, l'ultimo partito, lo voglio, lo vuoi? Ti rovini la tua volta, svegli la tua Te lo metti pronto, sì 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 Ehm Sì 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 lanciamo una sfida domenica ogni torniamo dal mare facciamo un video che chi gioca acqua venite tutti quanti i ragazzi qua mentre facciamo il video gli altri gli sparano con i nervi e l'altro deve rimanere concentrato a giocare che ne pensi mentre non ti distrarre vediamo chi fa più punti con il strato dai nerf ma io manco so giocare quindi c'è il controllo abbiamo comprato il controllo adesso però è lì c'è un po' Anche io vedo. Ah no, io ne vedo due. Uno sta andando sul palazzo dove vado io o no? Siamo una fiocina e un'arma blu. E un vampa blu. Perfetto. Pesce piccolo. Due pesci piccoli. Ok. Io vedo. Forse è la tua. Ah, vieni del suo planificante. Perfetto. E' bello che ti puoi premere il pulsante per ricaricare la fiocina ti dice munizioni insufficiente. Aspetta, te ne hai dieci. Ma infatti io ne ho dieci. Ti dice munizioni insufficiente. In realtà non c'è munizioni. Guarda. Cosa? Allora. Ti vedete i giochi andando a pc? Sì. uno di vita i piccoli sono delle vende io porto pesci piccoli e più precisamente quanto rieni di vita qua ci sono due pesci piccoli e vi arrivo dove sei morto ecco questo pastello dimmi se lo stai arrestando no no uno l'ho visto ah eccolo l'ho visto è un botto c'è un blocco a robura dove cavolo è? ecco lì ce ne sono due da me 50 bianco morto uno a terra un altro perquisisco eccomi eccolo l'hai visto sta dentro l'acqua forse non mi vede eccolo non mi ha visto il piedi l'acqua il piedi l'acqua ho pingato uno scudo che ho fatto mi ha dato una kill mitraglietta aspetta che ci sparano aspetta albio me lo fai fare a fiocino albio me lo fai fare a fiocino ok 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 sì ti ho detto di sì però l'albio ne ho solo uno eh vabbè un po' il piedi l'acqua il piedi l'acqua è lasciato con il pimi l'alietta Abbiamo devastato tutti Sto cercando quasi Ci sono altre fasse Questa che è a casa Eccola a cui c'è una tassa Bampa Io lì ho trovato lo scarro viola E l'hai vista con la tassa di sottotitoli? Sì, il problema è che ci hanno visto E dove vincere il pandeo E non mettere le pietre Preli per pesci ho pescato Sai come vuoi? Te l'ho lasciato, se vuoi fatelo Fatelo, fatelo Tanto tengo un flopper ma cerco altri punti di pesca Oh già Anni 12 Ai Da livello di 250 E lo so Oh guarda che ho pescato E' il mio avviso che ho pescato per te Una volta E' una volta Ma io ti ho pescato una scarra però E' meglio E' meglio E' di poze E' io o no E' l'elicottero che viene dalla scuola Però io sento un elicottero Secondo me prova è niente Per niente Alpi mi sta pushando No ha cambiato Colpito 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 Alpi vieni 14 li ho fatto Alpi vieni Ma dove cavolo sei? E' bianchissimo sta bro C'è uno alpi bianchissimo E' l'altro Non lo so Ma dove te ne stai andando? Ah capone Sono fortissimi Avevo atterrato quello con rampino Che proprio gli hanno arrestato la vita Attento che sto cuore E' un tacco di vita Eh vabbè Per un tacco E non per dire Albbero vado a chiamare C'è un anno fa C'è un anno fa D'accompanema 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 per cammini che il gruppo non è riuscito preso un pesce al mollo s'abbia sudata vabbè al mio spero non ho vero questo video finisce qui